Siamo in Piazza Virginio con Radicali Italiani, Radicali Puneo e Medio Legale, con la manifestazione del segretario nazionale di Radicali Italiani, il sostegno della legalizzazione della cannabis, proprio oggi sono state raggiunte le 500.000 firme per il referendum cannabis, il risultato storico si sono raggiunte in pochissimi giorni, in soli 4 giorni. Quello che continueremo a dire con forza è che il proibizionismo ormai ha fallito, è evidente, è quello di provare altri metodi non proibizionisti che in qualche modo possano regolare e portare legalità dove manca.